Come ti chiami? Hugo. Hugo Cabret. Un ricordo del suo passato. Che l'ha costruito? Io direi un mago. È il meccanismo più complicato che abbia mai visto. Si può aggiustare? Certo che lo aggiustiamo. Un misterioso legale. Dove l'hai presa questo? Mi serve per aggiustare una cosa. Ma è una meraviglia. Un segreto. E questo cos'è? Ci deve essere un messaggio di mio padre. Perché la mia chiave dovrebbe entrare nella macchina di tuo padre? Per ritrovare la strada di casa. Questo è un posto pericoloso, sono stato chiaro? Sta' attento. Così finiamo nei guai. Te l'ho detto che è un'avventura. Hai tentato di dimenticare il passato per tanto tempo. Forse è ora che cerchi di ricordare. La storia non è ancora finita. Il regista premio Oscar Martin Scorsese vi invita a compiere un viaggio incredibile. Fermate quel ragazzo! Fermatelo! Molto tempo fa ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Yugo Cabret e che era alla ricerca di un messaggio segreto. Io devo sapere che cosa significa. Un messaggio che illuminò il suo cammino. Yugo! Per tutta la vita. Yugo Cabret Sincronみたい 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 Sincronみたい